Più che un simbolo, un portafortuna. Nelle intenzioni dell'Associazione Commercianti di Margherita di Savoia, questa dovrà essere la funzione della mascotte, scelta da una giuria di esperti che verrà svelata in maniera ufficiale il prossimo 25 aprile. La prima fase, quella del concorso voluto dall'ACOM, si è conclusa il 24 marzo scorso, con l'arrivo di 61 elaborati e non tutti da Margherita di Savoia. L'idea è quella di legare le attività commerciali del territorio ad un simbolo, appunto un portafortuna, come spiega il presidente dell'ACOM, Donato Santobuono. La mascotte in sé per sé è un portafortuna e quindi l'associazione ha voluto dotarsi di questo portafortuna. Poi in un senso più largo la mascotte diventa un punto di riferimento di un territorio intero, di tutte quelle che sono le sue specificità e quindi abbiamo cercato di realizzarla ma non in house, cioè all'interno dell'associazione, ma abbiamo dato la possibilità attraverso un bando di far partecipare il più largo numero possibile di persone affinché potessero immaginare appunto questa mascotte che rappresenti il territorio di Margherita, non soltanto all'interno del territorio ma soprattutto all'esterno dei confini locali, portando Margherita in tutto il territorio nazionale e se possibile anche all'estero. Le peculiarità del territorio salinaro saranno ben rappresentate nella mascotte, assicura Santo Buono che alle legittime curiosità anche degli associati e dei margheritani dà un appuntamento al 25 aprile. Sarà una vera e propria full immersion, una festa per salutare la nuova mascotte. Verrà battezzato e quindi esposto al pubblico proprio nella giornata del 25 aprile dove noi all'interno di questa giornata stiamo organizzando una festa, una festa che si dividerà in due momenti, uno mattutino e uno pomeridiano. All'interno di questa festa esporremo una serie di prodotti locali, le scuole di Barlo ci delizieranno con le loro attività specifiche, faremo vedere anche tutti i lavori pervenuti perché è giusto che ognuno, anche tra quelli che hanno perso ovviamente, abbia la propria visibilità. Sarà un momento di feste di condivisione al quale invitiamo ovviamente non soltanto i margheritani ma anche tutti coloro che amano venire a Margherita e vivere quelli che sono gli elementi caratteristici di questo paese.